di un popolo di un paese. Conoscere, ricordare e custodire i fatti. Insegnanti e alunni della scuola Colle Pineta oggi sono qui per questo, per rendere ancora una volta onore ai nove giovanissimi partigiani trucidati dai nazifascisti l'11 febbraio del 1944. L'Eccidio, come ogni anno, è stato commemorato questa mattina a Pescara nella scuola intitolata ai Martiri, dove un tempo c'era la cava d'argilla che fu teatro della strage. All'appuntamento organizzato dal comitato provinciale Ettore Troilo dell'Ampi di Pescara hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Associazione Partigiani di Chieti, visto che i nove giovani uccisi nel 1944 erano tutti teatini appartenenti alla banda Palombaro. Era l'11 febbraio del 1944 quando i parà tedeschi imbracciarono il fucile e fecero strage di quelle giovani vite. Dai 18 ai 30 anni, Piero Cappelletti, Nicola Cavorso, Stelio Falasca, Massimo Beniamino Di Matteo, Raffaele Di Natale, i fratelli Alfredo e Aldo Grifone, Vittorio Mannelli. La loro unica colpa era quella di non rassegnarsi e di continuare a combattere per la libertà. Prima c'erano stati i rastrellamenti, le torture e i sopprusi operati dal gruppo comandato dal famigerato tenente Mario Fioresi, proveniente da Mestre, il quale impartiva ordini spietati contro gli antifascisti. Un'assenza di umanità che certo non può dirsi mitigata dalla trasformazione della condanna dei nove teatini passata dall'impiccagione alla fucilazione, atto di dolorosa clemenza ottenuto solo per intervento dell'Arcivescovo Giuseppe Venturi. Oggi, oltre agli alunni, ai familiari, ai docenti e alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Pescara 7, Rossella di Donato, sono intervenuti alla cerimonia anche il sindaco di Pescara Marco Alessandrini e, in rappresentanza del comune di Chieti, l'assessore Mario Colantonio.